Sì, buongiorno a tutti, io sono Antonio De Caro e vi parlerò del progetto di legge per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Questa è una delle leggi che l'intergruppo parlamentare sta portando avanti in questi mesi, è una legge che si occupa in particolare dell'infrastruttura e della pianificazione delle infrastrutture ciclistiche, poi c'è un'altra che conoscete, che abbiamo già presentato qualche mese fa, relativa alla moderazione del traffico alle zone 30, Diego vi parlerà dopo della legge sui furti e poi stiamo cercando anche con la vostra collaborazione di creare una normativa che possa aiutarci a districarci nei meandri del codice della strada, ti sentivo parlare prima dei dossi, è uno dei primi problemi che affrontiamo in quella legge che invece sta seguendo Paolo Gandotti che è seduto qui con noi oggi. Questa legge nasce essenzialmente dall'esperienza di alcuni amministratori locali e di alcuni referenti territoriali della FIAB che nel frattempo sono diventati anche parlamentari e negli anni si sono occupati di ciclabilità, dall'analisi dei dati soprattutto sull'utilizzo dell'automobile nelle nostre città, dalle indagini specialistiche e dei contributi che voi dalla FIAB in questi anni ci avete dato e anche dalla volontà di 79 parlamentari di tutti i gruppi politici che si sono messi insieme e hanno costituito quello che abbiamo chiamato intergruppo per la mobilità ciclistica. Che cosa porta l'esperienza di un amministratore locale o di chi si è occupato di FIAB, di ciclabilità negli anni sul territorio? Ti porta a dire che se magari realizzi un'infrastruttura e dai anche un incentivo come ho fatto io quando ero assessore alla mobilità del Comune di Bari, un incentivo per l'acquisto delle bici, poi riesci anche a dare 3.000 biciclette nel giro di due mesi ai tuoi concittadini, però il concittadino a un certo punto ti dice ma io la bici dove la metto dopo? La porto a quarto piano con l'ascensore? Ecco che nasce l'esigenza di realizzare magari dei depositi di biciclette o ti nasce l'esigenza di inserire nel regolamento edilizio comunale l'obbligo di realizzare anche il deposito per le bici. Prima il sottosegretario ci ha parlato di progettare un grattacielo senza il parcheggio per le auto, parlava del grattacielo di Renzo Piano e se l'avessimo fatto in Italia andavamo contro una normativa che è la legge 10 del 92 se non ricordo male, la cosiddetta Tognoli, bene, è arrivato il momento di fare una Tognoli per le biciclette, nel senso che dobbiamo obbligare nei regolamenti edilizi i comuni a realizzare i depositi anche per le bici. Così come molti amministratori si trovano nelle condizioni di dover realizzare un'infrastruttura ciclabile su un itinerario di scorrimento, che è il caso che tu citavi, però ti ritrovi a farlo su una strada che è stata costruita due anni prima e tu ti chiedi ma non c'è una legge dello Stato che il codice della strada che prevede l'obbligo per quando si realizza una nuova strada o quando si fa una manutenzione straordinaria di una strada di realizzare a fianco un'infrastruttura ciclabile? Perché non è stata realizzata? Probabilmente perché non c'erano delle penali per i comuni, le province e le regioni che a fianco alla strada non realizzano l'infrastruttura per la bici. Vediamo i dati, dati che conoscete, siamo uno dei paesi con il maggior indice di motorizzazione, lo ricordava il sottosegretario stamattina, sono 61 veicoli per ogni 100 abitanti, la media europea è di 46 veicoli, l'automobile è utilizzata dall'83% degli italiani, il 60% degli spostamenti non supera i 5 chilometri, il 15% non supera un chilometro, sono distanze che possiamo percorrere tranquillamente con la bici o addirittura possiamo percorrere a piedi. Così come i dati ci dicono che le automobili che vengono utilizzate normalmente da un singolo guidatore, un singolo conducente, circola soltanto per due ore e le altre 22 ore resta parcheggiato su strada sottraendo anche porzioni di territorio importanti che possono essere messe a disposizione dei ciclisti piuttosto che dei pedoni. L'Italia, il nostro paese inoltre, è uno dei pochi paesi europei che non dispone ancora di un piano nazionale della mobilità ciclistica e nemmeno di una rete ciclabile nazionale. Questa proposta di legge si propone di colmare questa grave lacuna in maniera da ridurre questo ritardo rispetto agli altri paesi europei. La realizzazione di un sistema di reti ciclabili a diversi livelli di scala, a partire quindi già dall'implementazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, favorirebbe, secondo noi, anche lo sviluppo del turismo in bicicletta, che è una tra le forme di turismo sostenibile che sta reggendo anche molto bene alla crisi economica e che ogni anno in Europa muove oltre 10 milioni di persone. Anche qui, se proviamo a guardare i dati, il mercato cicloturistico più importante in Europa è quello tedesco che vede 35 milioni di cicloescursionisti e 6 milioni di cicloturisti che sono quelli che trascorrono almeno una notte in albergo. Ecco, il 42% dei cicloturisti tedeschi usa il treno per raggiungere con bici a seguito i luoghi di vacanza. L'Italia non figura nella top 10 dei paesi europei dove i cicloturisti tedeschi trascorrerebbero le ferie in bici nel periodo che va da marzo a settembre, tranne l'Alto Adige. Questo fa capire che dove offriamo il servizio, dove offriamo l'infrastruttura, il percorso, le guide, gli ostelli, la possibilità di trovare lungo il percorso ciclistico, di trovare depositi, la possibilità di individuare una ciclofficina, la possibilità di poter dormire in alberghi che sono attrezzati per i cicloturisti, alla fine il turismo arriva anche nel nostro paese. Questa proposta di legge quindi si prefigge di definire un sistema organico di interventi nel comparto della mobilità ciclistica e di promuovere e sviluppare l'uso trasportistico della bicicletta, quindi non solo cicloturismo, spostamenti quotidiani, casa lavoro, casa scuola, casa servizi, sia attività turistico ricreativa, il cicloturismo di cui abbiamo parlato prima, mediante la realizzazione di un sistema organico e adeguato di infrastrutture, di rete e di servizi. Questa proposta di legge prende le mosse da altre proposte di legge che erano state presentate nelle legislature precedenti, in particolare la proposta Dussin e la proposta Motta, e delle leggi invece che sono state approvate nelle altre regioni, abbiamo preso spunto dalla legge della Regione Puglia, la numero 1 del 2013, altre leggi sulla mobilità ciclistica sono state approvate negli ultimi anni in altre regioni come per esempio l'Abruzzo e la Lombardia. In particolare le parti della legge sulla mobilità ciclistica della Regione Puglia che sono state recuperate nella legge nazionale sono per esempio le competenze degli enti locali, l'intermobilità tra la bici e il trasporto pubblico locale e la classificazione delle ciclovie che per la prima volta è stata fatta nella legge regionale della Puglia. Ovviamente la legge è stata arricchita dai contributi specialistici della FIAB che ci avete dato in questi anni e che aveva già contribuito in maniera molto significativa alla redazione della prima bozza di proposta di legge sulla mobilità ciclistica che poi è diventata legge nel 1998, mi riferisco alla 366. In questo quadro generale quindi questa proposta di legge lascia inalterata pressoché la normativa vigente in materia di mobilità ciclistica e quindi la 366 del 1998 però la inquadra in un contesto più vasto e organizzato di programmazione, finanziamento che purtroppo in questi anni non c'è stato e realizzazione degli interventi, garantendo a ciascun ente territoriale le competenze per il suo ruolo, i suoi spazi di intervento però contemporaneamente collega questi interventi tra di loro e li inquadra in un sistema unico. In questo quadro quindi nel cercare di recuperare anche un gap con il resto dei paesi europei quindi abbiamo la necessità di individuare quello che abbiamo chiamato il piano generale della mobilità ciclistica all'interno dell'articolo 2 leggerò alcuni pezzi della normativa come sezione del piano generale dei trasporti e della logistica perché per noi il piano generale della mobilità ciclistica deve stare all'interno del piano generale dei trasporti, lo abbiamo scritto nell'articolo 2 e all'interno di questo piano devono essere definiti gli obiettivi di sviluppo della mobilità ciclistica nel triennio successivo l'indicazione delle priorità per gli interventi da realizzare gli indirizzi per orientare e coordinare efficacemente l'azione amministrativa delle regioni, delle province o delle città metropolitane dei comuni e degli altri enti pubblici che sono competenti in questa materia. Il piano generale sarà redatto in armonia con i piani regionali della mobilità ciclistica che abbiamo previsto obbligatoriamente all'articolo 5 per tutte le regioni non solo per le regioni che hanno approvato una legge che prevede la pianificazione degli interventi in materia di mobilità ciclistica ma per tutte le regioni che vengono predisposte appunto da ciascuna regione e riferite all'insieme degli interventi necessari per incentivare l'uso della bici nell'ambito del territorio regionale. Questi piani vengono predisposti quelli regionali sulla base dei programmi pluriniali e dei progetti presentati dalle province e dai comuni ai sensi di un articolo, di una legge che già esiste che è l'articolo 2,1 della 366 che ho richiamato prima. In questa maniera riusciamo a integrare gli attuali e sperimentati meccanismi di intervento per la mobilità ciclistica con nuove procedure di programmazione che partendo proprio dalle proposte e dai progetti individuati dagli enti locali e territoriali si articolano e si completano nei livelli superiori, prima regionale e poi nazionale di orientamento e di coordinamento in maniera complessiva. Un'altra cosa che ci permetterà di recuperare un gap con gli altri paesi europei è la rete nazionale di percorribilità ciclistica che abbiamo previsto all'articolo 3 che è da individuare nel piano generale sulla base delle reti regionali di percorribilità ciclistica delineate nei singoli piani generali, in realtà regionali. In realtà la rete nazionale di percorribilità ciclistica è già prevista da una delibera del Cipe, la numero 1 del 2001, è stata approvata il 1 febbraio del 2001 e si caratterizza espressamente in questa proposta di legge come una rete infrastrutturale di livello strategico nazionale inserita nel sistema delle reti ciclabili europee e finalizzata principalmente all'incentivazione di forme di mobilità e di turismo sostenibili. Dovrà presentare alcuni requisiti fondamentali che in realtà sono stati individuati da uno studio che ha fatto la FIAB nel 2002, e quindi uno sviluppo minimo complessivo di almeno 20.000 km. La rete nazionale deve attraversare ogni capoluogo regionale e le principali città di interesse turistico. È previsto il collegamento del maggior numero possibile di aree naturali protette e di rilevante interesse esclusionistico e la realizzazione di aree pedonali, zone a traffico limitato e provvedimenti di moderazione del traffico che prima abbiamo citato, per consentire la continuità e l'interconnessione della rete. Le piste non vanno dal nulla a nulla, l'itinerario non parte in un punto e non finisce in un altro, viene assicurata la continuità anche attraverso la realizzazione di aree ciclo pedonali, zone a traffico limitato e provvedimenti di moderazione del traffico. Tutte queste caratteristiche riusciranno a qualificare questa rete nazionale come una sorta di network in modo da avere un collegamento di grande respiro collegando gli itinerari ciclabili di dimensione sovraregionale o di collegamento con gli stati confinanti con i principali itinerari ciclabili che hanno una dimensione regionale, provinciale oppure comunale. All'interno della rete nazionale di percorribilità ciclistica questa legge individua due elementi qualificanti. Il primo elemento è l'intermobilità. Le stazioni, i porti e gli aeroporti devono diventare accessibili in bicicletta sia per consentire ai viaggiatori in bici di poter continuare il proprio viaggio sia alle persone che presso le stazioni, presso i porti o presso gli aeroporti ci lavorano. Possiamo portare un esempio per tutti, un esempio che molti di voi conoscono che è quello della impossibilità per esempio di raggiungere l'aeroporto di Malpensa in bicicletta, un'impossibilità sia per chi deve viaggiare in aereo sia perché si deve recare in quel posto per motivi di lavoro ogni giorno. Sapete che l'unica strada di accesso è una strada statale, la 366 e sulla strada statale ovviamente è vietato circolare in bicicletta secondo quello che è previsto dal codice della strada. La seconda disposizione, il secondo elemento qualificante è che lo sviluppo della rete nazionale di percorribilità ciclistica e delle reti regionali deve poggiare prevalentemente sul recupero della viabilità minore esistente e sul recupero e sull'allestimento ai fini di mobilità ciclistica anche delle strade arginali, dei fiumi, dei canali, delle strade di servizio come per esempio le strade di servizio per la bonifica, per gli acquedotti, i gestori degli enti servizi, l'Enel, il gas, anche di sedimi ferroviari in disuso e stradali dismessi o declassati che con questa legge gli enti gestori vengono obbligati o a risistemare o accedere agli enti locali. Una funzione importante, mi dispiace che non c'è più il sottosegretario, sarà quella di attribuire al Dipartimento, a costituire più che altro un Dipartimento presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che è il Dipartimento per la mobilità ciclistica. Molte delle funzioni oggi sono già affidate al Ministero senza ulteriori costi per la macchina dello Stato, per la macchina amministrativa, si tratterà di riorganizzare le funzioni e di concentrarle all'interno di questo Dipartimento perché purtroppo in Italia non è mai stata centralizzata questa funzione, non c'è una struttura unica nazionale che si occupa compiutamente di mobilità e di infrastrutture ciclabili. Negli anni se ne sono occupati diversi Ministeri e come sapete gli interventi sono stati abbastanza frammentati, non molto numerosi ma sicuramente abbastanza frammentati. Tra le funzioni che verranno assegnate a questo Dipartimento io segnalo la predisposizione anche di un sistema informativo sull'infortunistica stradale sulla rete nazionale di percorribilità ciclistica per individuare gli interventi necessari per aumentare la sicurezza del trasporto in bicicletta. L'articolo 6 invece fa riferimento alle province, alle città metropolitane e ai comuni, obbliga questi enti locali a dotarsi di un piano della mobilità ciclistica che è ritenuto un piano di settore, ecco deve essere un piano di settore all'interno degli strumenti che già esistono, gli strumenti di pianificazione del traffico e della mobilità, devono essere parte integrante dei piani territoriali di coordinamento provinciali che sono i piani che vengono redatti dalle province e dei cosiddetti Pug, dei piani urbanistici generali che invece sono di competenza dei comuni. All'articolo 8 abbiamo individuato come soggetti attuatori proprio le province, grazie alle città metropolitane, i comuni e gli altri enti locali che secondo noi sono gli enti gestori dei parchi regionali e locali e anche le comunità montane. Nell'articolo 9 e nell'articolo 10 e 11 vengono invece individuate quelle che sono le competenze degli enti locali, le province hanno tra i propri compiti che gli vengono assegnati la redazione e l'aggiornamento di un sito, di un sistema informativo territoriale della rete ciclabile provinciale. L'articolo 10, credo molto importante, quello relativo ai comuni, individua le disposizioni per i comuni tra cui la realizzazione in prossimità, cioè sono obblighi la realizzazione in prossimità delle stazioni ferroviarie di velo stazioni, quindi vale a dire di centri per il posteggio, il noleggio e la riparazione delle bici, sia per le stazioni ferroviarie sia per le stazioni per i bus extraurbani. I comuni hanno l'obbligo negli edifici di edilizia residenziale pubblica, almeno in quelli dove ha una competenza diretta, di consentire il deposito delle biciclette nei cortili o negli spazi comuni e di modificare i regolamenti edilizi, anche questo è un obbligo, inserendo norme per la realizzazione degli spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziare o produttive per il deposito di biciclette e anche presso strutture pubbliche. Parliamo di una sorta di legge Tognoli per le biciclette, ci deve essere l'obbligo in tutti i regolamenti edilizi di individuare degli spazi, un certo numero di metri quadri che sono stati parametrati nella legge per dare la possibilità a tutti di parcheggiare la propria bicicletta, questo diventa un obbligo, un comune non potrà mai più rilasciare una concessione edilizia per edifici residenziali, per terziario direzionale, per attività commerciali senza lasciare uno spazio per il deposito di biciclette, così come all'articolo 11 si interviene in materia di ferrovie dismesso o in disuso con l'obbligo per gli enti gestori di cederli agli enti locali. L'articolo 12 credo finalmente modifica il codice della strada agli articoli 13 e 14 e introduce questa volta non solo l'obbligo per gli enti proprietari di tutte le categorie di strade che sono previste dalla norma di realizzare all'interno dello stesso corridoio previsto dell'opera stradale sia nel caso di nuove costruzioni che di manutenzione straordinaria e di strade esistenze delle infrastrutture cicloviarie, questo è già previsto dall'allegato 3. Gli interventi previsti da questo articolo valgono anche per i sottopassi, i sovrappassi e le rotatorie, cosa che non è prevista invece esplicitamente all'interno del codice della strada? Qualora gli interventi dovessero essere realizzati disattentendo tale norma il finanziamento viene revocato, cioè se ci sono enti locali che ricevono il finanziamento, il comune dalla regione, la regione dal ministero, l'ANAS sicuramente dal ministero e non realizzano l'infrastruttura ciclabile al fianco della nuova strada o in caso di manutenzione stradale di tipo straordinario, non realizzano infrastruttura ciclabile, il finanziamento che è stato erogato all'atto del collaudo viene revocato. Il disegno di questo sistema organico di intervento nel settore prevede anche un'altra novità che purtroppo non era stata prevista dalla 366, cioè la presentazione alle Camere di un rapporto annuale da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla mobilità ciclistica in Italia. Oggi non esistono dati nazionali che riguardano la mobilità ciclistica, non sono a disposizione. In questo documento che è stato previsto da questa legge il ministro una volta all'anno riferisce alle Camere sullo stato di attuazione della normativa di settore, con particolare riferimento alle entità delle risorse finanziarie stanziate, le spese a livello comunitario, statale, regionale e locale, al numero e alla qualità degli interventi che sono stati realizzati e soprattutto allo stato di attuazione della rite nazionale di cui abbiamo parlato prima, che possiamo chiamare Bici Italia. Deve anche il ministro rispondere in relazione ai risultati ottenuti in termini di riduzione del traffico, dell'inquinamento e degli incidenti e alla partecipazione a progetti o a programmi comunitari. Io credo che se riusciremo con la vostra collaborazione e con la collaborazione dei parlamentari dell'intergruppo ad approvare questa normativa, credo che questa legge attraverso la Bici potrà unire ancora di più il nostro Paese da nord a sud. Grazie.